È durato un secondo. Era tutto finito. Invece no. Non so che mi è successo. Io solo una cosa voglio sapere. Ma tu che cazzo sei? Che vuoi? Fai un giro? C'è un sacco di gente da salvare. La mia gente mi fa schifo. Non è che ti puoi dire indietro, eh? È per questo che c'hai poteri. Perché fammi capire questi qua i salveressi. Ma te credo. Dai, ragà, tutti insieme! Io, io lascio un segno. Ti sei matto scocciato. Ora, un uomo senza libertà. Con questi poteri si potevamo pure diverti insieme. Ma tu immagini. Tu fai una supermignotta come noi. Ma se arriva il giorno delle tenebre, succede il macello. Ti sei il supereroe, poi c'è una missione. Mi sento bene perché adesso ci sei tu. Salvali tutti. Tu che puoi. Non è per criticare, eh? Però quando ti trasformi ti devi cambiare ste scarpe. C'è un supereroe che le scarpe di camoscio non si è mai visto, dai. Non l'hai mai visto, te? Non si è mai visto. Secondo Screen Rant, i migliori film d'azione di tutti i tempi sono I predatori dell'arca perduta di Steven Spielberg, Rambo, Arma letale, Trappola di cristallo, Terminator 2, Il giorno del giudizio, l'originale Point Break, Bad Boys, con Will Smith e Martin Lawrence, e i film più recenti come Matrix, The Burn Ultimatum, Il ritorno dello sciacallo, The Ride, Redenzione. Riconoscimenti speciali di Screen Rant per il miglior film d'azione di tutti i tempi sono andati a tutti i film di James Bond con i posti sul podio per Goldfinger e Casino Royale, al film di Michael Bay The Rock con Sean Connery e Nicolas Cage, a True Lies, una parodia di James Cameron con protagonista Arnold Schwarzenegger e a Top Gun con Tom Cruise nel ruolo di Pete Maverick Mitchell che l'ha reso una star. Che ne pensate di questa classifica? Siete d'accordo? Scrivetemi la vostra classifica qui sotto nei commenti e cliccate qui accanto per tanti altri video. A prestissimo!